grazie ah ma questo va messo dentro grazie prima quando gli hai detto del coso la macchina vuota ah ecco che stai facendo sbordare hai visto? che bella la luna che ti ha aspettato a 20 euro solo la mattina ha pagato il mio biglietto o la gratuola? l'altra con la ciuglia dove vai Mirocci? il bilancio di corbetta il bilancio di cariani il bilancio di ribuschi il bilancio di ribuschi il bilancio di ribuschi un attimo per fare un giro che dobbiamo andare a fare grazie Grazie a tutti.